Il modello di arcipelago pulito pronto a crescere in Toscana dopo la sperimentazione a Livorno. Ecco che le maglie del progetto della regione sono pronte ad allargarsi per includere anche Via Reggio, Porto Santo Stefano, Porto Ercole, Castiglione della Pescaia e Piombino. L'obiettivo è quello di tenere il mare pulito, liberandolo dalle plastiche che ne inquinano le acque, provocando gravi danni all'ecosistema marino. Arcipelago pulito, premiato anche a livello europeo come pratica innovativa, a vedere il suo punto di forza nell'azione che possono fare i pescatori per raccogliere i rifiuti che trovano nel mare con le loro reti e che poi consegnano a chi si occupa dello smaltimento e del riciclo. Oggi questa filiera, questa rete si allarga dunque coinvolgendo altri comuni della costa toscana che mettono nero su bianchi il loro impegno con un'intesa sottoscritta a Firenze a Palazzo Sacrati Strozzi. Uno dei motivi del successo di Arcipelago Spulito è stata l'integrazione di tutti i soggetti, un grande lavoro di collaborazione, ora siamo ulteriormente ad allargarlo. Bene così. Ci fa veramente piacere e ringraziamo l'assessore Bugli per averci coinvolto in questa seconda parte del progetto Arcipelago Pulito. Noi siamo molto attenti alla questione dell'ambiente e quindi abbiamo aderito con soddisfazione. Il protocollo è stato siglato oltre che da Regioni e Comuni, anche dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, tra i firmatari anche il Ministero dell'Ambiente, la Direzione Marittima della Toscana, l'Autorità di Sistema del Martireno Settentrionale e Lega Ambiente. Intanto nei primi mesi di sperimentazione di Arcipelago Pulito a Livorno sono stati raccolti 18 quintali di rifiuti di cui il 20% erano plastiche riciclabili. Ora, con il nuovo accordo, la Toscana è pronta a prolungare la sperimentazione con i soggetti firmatari per altri sei mesi, prorogabili e rinnovabili. Un'iniziativa che mira ad ampliarsi ancora di più, oggi che la salvaguardia dell'ambiente anche di quello marino è divenuta una priorità non più rimandabile. Con il protocollo di oggi ampliamo la collaborazione e la squadra a tutta la Toscana Meridionale. Tenete conto che siamo all'ultimo miglio per l'approvazione della legge salvamare che è stata appena votata nella Camera dei Deputati e aspettiamo l'ultimo miglio che sia votata anche in Senato e quindi la Toscana come avanguardia di un modello di gestione e di raccolta e quindi anche di disinquinamento marino che ci fa onore come sistema toscano.